con nicola cesaretti attaccante da strambinese che oggi qui a santià prende il 2 a 2 all'ultimo minuto quindi una partita emozionante un punto in chiave salvezza raccontaci come hai visto questo finale ecco non si capiva quasi più niente questo finale eravamo in quella parte della porta e io ho detto al mio compagno che ha segnato ho detto entra dentro che tu sei alto di solito lui non entra mai in area questa è stata la prima volta ed è riuscito a segnare e quindi è stato molto emozionante anche perse per lui ecco diciamo quasi quasi non ci speravate più in questo punto allora punto importante in chiave salvezza abbiamo detto adesso nel giro di ritorno cosa potete fare cioè possiamo vincere tutti gli scontri diretti che nel giro di andata non siamo riusciti a prendere punti solo in questo un punto e quindi speriamo perché anche grazie all'aiuto dei sostenitori di casa di riuscire anche per la strambinese quest'anno fra tutti i regionali sarebbe bello a tenere diciamo ecco sempre sulla partita all'inizio sotto poi rimu pareggio poi 2 2 a 1 alla fine potevate anche vincere per qualche occasione proprio come se messa cosa ne dici e potevamo sicuramente dobbiamo migliorare però secondo me oggi abbiamo dimostrato che possiamo farcela ecco poi se nel giro di ritorno anche qualche tuo gol in più va bene giusto grazie mille nicola buon proseguimento grazie